Buongiorno, oggi è sabato, ho dormito tantissimo, mi sono svegliata alle 8 meno un quarto stamattina e siamo andati a dormire comunque abbastanza presto, sono le 11, quindi ora mi sento molto in ritardo perché sono le 9 meno un quarto e non ho ancora fatto niente perché quando mi alzo bisogno di prendere il caffè con calma, comunque ora vedrò di attivarmi, mi vesto, già ho pulita la casa, volevo anche stuccare le porte, ogni tanto ne faccio una, lo sapete, e allora le porte prima o poi le voglio imbiancare, questo ormai si sa, prima o poi ce la farò, comunque prima di imbiancare le vanno stuccate perché c'è tanti punti in cui poi magari ve lo faccio vedere, sono rovinate, prima di essere imbiancate vanno stuccate, quindi pensavo magari intanto le stucco, in ogni caso prima di tutto devo pulire, quindi poi si vedrà. Grazie a tutti Allora, adesso faccio colazione, ho un dolore qui, mamma mia, tipo delle fitte costanti, perenni, è un po' simile al dolore da reflusso, però solitamente mi viene al centro il dolore da reflusso, quindi non so se possa essere reflusso anche questo, tutto a sinistra, non so, provo a prendere un malox magari, e faccio colazione, faccio il latte con i biscotti, ovviamente faccio colazione con una palla di pelo accanto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Porteremo giù i cani e poi dovremmo anche mangiare qualcosa. Che pranzo non avevo mai voglia di cucinare. Il dolore è tornato qui a sinistra. Boh, non capisco. Ho preso anche un occhio perché in frattempo mi è anche venuto un mal di testa. Che meraviglia. Comunque. Ora, dove vai, dopo mi do una sistemata, mi tocco un po', mi sistemo i capelli e stasera andiamo a fare l'aperitivo. Stanno arriviamo una birra, poi si torna a casa. mangio al volo, mi faccio questi hamburger qua. Ok, eccoci qua. Ok, eccoci qua, restauro fatto. Non sono molto convinta dei capelli oggi. Mi sembra che qualcosa sia andato storto. Mentre Marco dorme, vado di là da Franci, ci guardiamo un po' di break in bed. Non so se passeremo dalla cop, scusate, dal Penny a prendere le pizze. Stiamo per andare a fare l'aperitivo. Ho messo questo vestitino qua. Eccoci qua, ci hanno portato il cocktail di benvenuto. Sera abbiamo una soda all'alloro. Assaggiamo. Salute. Buono. Buono. Dicieri ghiacciati. Che stigata. Sotto ho preso anche questo perché l'altra volta gliel'ho rubata perché era più buono. Eclair. Crema di ceci, paprika e nocciola. Lollico. Mandorle e parmigiano. Cappero in tortura con maionese all'anduglia. Una tortista, pesciamella, semi di patatero accompagnato da maionese all'aricola. E un boulevard stasera parcito con caprino, maionese, cipolla acetata, cappero e curry. Grazie. 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 Buona fettura. Salute. Salutaci. Salute. Salute. Lollipop, formaggio e mandorle. Allora, mi strucco super velocemente, faccio la doccia e prepariamo la pizza, siamo passati al Pagli a prendere la pizza. Anche per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo per la compagnia e ci vediamo al prossimo video.